Tutti contro Erling Holland lo stanno massacrando questo giovanissimo ragazzo Shitstorm devastante su internet, ieri sera ho aperto un po' TikTok, un video dopo l'altro dove lo prendono in giro anche su Twitter, il suo hashtag ormai in tendenza, meme dopo meme ho letto che tantissimi inglesi addirittura adesso lo chiamano, lo soprannominano già il Megayar degli attaccanti attenzione, facciamo un passo indietro amici secondo me chi critica in questo momento Holland in questa maniera così esagerata o è puramente ironico oppure di calcio ne capisce veramente ben poco perché secondo me esiste un motivo ben preciso che secondo me era anche abbastanza prevedibile come mai Holland sta avendo delle difficoltà al Manchester City secondo me non è neanche colpa sua, è una roba puramente tattica e perciò ne parleremo in questo video innanzitutto amici vi invito anche di seguirmi sul secondo canale Giano Food, un tedesco assaggio al cibo italiano dove viaggiamo in tutte le 20 meravigliose regioni italiane sapete che sono stra-innamorato della cultura italiana iscrivetevi al canale amici perché domani uscirà un nuovo video devastante dove con un personaggio famosissimo di YouTube Italia proverò il street food più famoso di Bari e faremo una mangiata veramente allucinante perciò domani su YouTube nuovo video iscrivetevi al canale Giano Food se avete il Made in Italy nel cuore allora innanzitutto cos'è successo? prima che analizziamo Holland cos'è successo? perché non tutti seguono il calcio inglese ieri c'è stata la finale di Supercoppa Inglese cioè il vincitore della FA Cup cioè il Liverpool ha affrontato il Manchester City il vincitore della Premier League ogni anno si gioca questa Supercoppa Inglese ieri abbiamo visto anche la Supercoppa Tedesca ha vinto il Bayern Monaco Manet in grandissima forma secondo me il Bayern è un po' ironico che in attacco spende sempre abbastanza poco Manet adesso non è che hanno pagato tantissimo anche Lewandowski è arrivato a paramento zero adesso è andato via hanno incassato 60 milioni e comunque il Bayern in fase offensiva è devastante invece in fase difensiva continua a spendere cifre veramente esagerate e sta avendo dei grossi problemi perciò anche ieri hanno subito 3 gol però ne hanno segnato 5 però mettiamo di parte il Bayern Monaco perché qui adesso parliamo della Supercoppa Inglese il Liverpool vince 3 a 1 innanzitutto sono contentissimo per il mio connazionale Jürgen Klopp sapete quanto mi stia simpatico Jürgen adesso parliamo però di quello che ha fatto diciamo scatenare il web ieri Holland ha sbagliato un gol da 5 metri una palla un po' stile Gagliadini vi ricordate con la palla da 5 metri dove lui mette il baricentro del fisico indietro invece di metterlo davanti poi la palla esce e anche ieri Holland da 5 metri diciamo il portiere para la palla palla che rimbalza lui con il piede scarso la prende subito e la manda sopra la porta sfiora ancora la traversa ovviamente quello è un errore è ben chiaro da 5 metri tu devi segnare anche se però devo dire noi vediamo i replay le slow motion quando succede una cosa del genere in piena velocità palla che rimbalza dal portiere tu devi subito esserci non è così facile come fosse sembra nella televisione però lo posso anche accettare possiamo anche dire va bene ha sbagliato però vi dico che tutti sbagliano anche i campioni più grandi del mondo sbagliano sbagliare fa parte del calcio perciò va bene le critiche ma secondo me fare delle critiche così eccesive verso Holland esagerate su esagerato soprattutto quando sento dire tantissima gente e beh Holland adesso per la prima volta affronta dei veri difensori in Bundesliga che è una Farma League ha fatto sempre bene perché quel campionato è scarso lì non ci sono difese e perciò Holland può solo fare bene in Bundesliga prendiamo i dati fra le mani amici a me piace sempre argomentare e poi dimostrarvi anche dei dati o diciamo sottolineare le mie argomentazioni proprio con dei dati Holland in Bundesliga ha segnato ogni 87 minuti un dato straordinario strepitoso per un ragazzo che ha compiuto 10 giorni fa 22 anni e in Champions League sapete quanto ha segnato ha segnato ogni 64 minuti cioè Bundesliga ogni 87 minuti Champions League ogni 64 minuti adesso alcuni di voi diranno vabbè ma ha fatto pochissime partite in Champions League non è vero non ha fatto pochissimo perché ha segnato 23 gol e ha fornito 3 assist in solamente 19 partite certamente quando fai 100 200 300 partite è più difficile mantenere questa quota ma comunque non mi potete dire che Erling Holland segna solo in Bundesliga perché il suo valore finora l'ha mostrato soprattutto anche a livello internazionale e 26 partecipazioni gol in 19 partite in Champions League sono qualcosa veramente di disumano soprattutto considerando che lui non ha giocato al Manchester City che crea un miliardo di palle di gol a partita ha solo fra virgolette giocato al Borussia Dortmund perciò mi sembra eccesivo adesso dove è appena iniziato la stagione sappiamo tutti che tra l'altro i giocatori alti con le gambe lunghe con il fisico potente sono quelli che a livello di preparazione tra l'altro sono sempre anche un po' indietro rispetto ai giocatori con il baricentro basso perciò possiamo criticarlo va bene possiamo anche dire che Haaland avrà bisogno di tempo va bene però queste critiche eccesive siccome sono assolutamente sbagliate inoltre qui ho ovviamente un po' i miei dubbi c'è anche da considerare che il gioco del Manchester City è molto particolare Haaland ieri ha sempre cercato la profondità qual è un suo grande punto di forza al Borussia Dortmund in Bundesliga quando attaccava la profondità magari c'era anche una transizione rapida era devastante Haaland Haaland selbst die Bayern haben Angst perfino i bavarese avevano paura di questa roba era una roba devastante però questo modo di giocare non rientra nei schemi di Pep Guardiola nel gioco di Pep Guardiola il numero 9 deve venire in basso deve creare superità numerica deve creare spazio in profondità non deve attaccare la profondità deve creare spazio in profondità deve ritirare fuori la difesa avversaria così poi le mezzale possono entrare in questi spazi e spesso segnano dei gol vi do un esempio amici ieri una grandissima occasione del Manchester City è stata proprio un minuto 7 quando Holland è venuto in basso ha attaccato Arnold ha messo sotto pressione Arnold Arnold ha perso la palla c'era un po' di confusione la palla poi è stata subito verticalizzata in questa zona in profondità dove poi mancava un calciatore del Liverpool dove mancava un defensore del Liverpool e lì è subito entrato con grande rapidità De Bruyne ha tirato ed era quasi gol lì abbiamo visto questi sono i schemi del Manchester City purtroppo però Holland non è abituato a giocare in questa maniera perciò ieri spesso Holland stava fermo oppure non faceva il gegen pressing stava addirittura in fuori gioco perciò De Bruyne poi l'ha anche criticato si è arrabbiato anche sul campo ed è un problema ed è un problema che Holland gioca un calcio sicuramente per nulla funzionale al sistema di Pep Gordiola qui però adesso dire che lui sia in generale scarsissimo mi sembra una esagerazione perciò ieri lui spesso è rimasto in profondità oppure attaccato alla profondità perciò era un gioco abbastanza prevedibile per il Liverpool Van Dijk e Matip due difensori centrali di grandissima classe internazionale di grandissima esperienza non hanno avuto nessun problema per fermarlo e adesso secondo me ci sono due soluzioni o si adatta Erling Holland oppure Gordiola cambia un po' il suo stile di gioco sappiamo però che Gordiola è una persona un po' testarda molto rigido riguardante la sua visione di gioco la sua visione del calcio in generale perciò secondo me sarà un po' e secondo me sarà Holland che si dovrà adattare e sono molto curioso perché Holland è un giocatore diverso non è il tipico attaccante Falzunhove di cui il Manchester City finora con cui il Manchester City finora giocava perciò ci vuole ancora più tempo cioè considerando questo ragazzo è giovanissimo ha un fisico veramente importantissimo perciò con la preparazione sicuramente è ancora un po' indietro il Manchester City stranamente fa pochi amichevoli rispetto ad altre squadre inoltre tatticamente un gioco completamente diverso un calcio completamente diverso è ovvio che affronta delle difficoltà è ovvio e massacrarlo adesso subito mi sembra una roba veramente esagerata eccesiva da parte dei tifosi inglesi ovviamente ci sono queste paure Timo Verna faceva bene in Bundesliga però in Premier ha fatto malissimo e perciò tanti fanno subito questi confronti oppure anche Lukaku anche qui ho letto tantissimi articoli tantissimi tweet che sta facendo bene in Italia in Inghilterra ha fatto sempre malissimo perciò c'è un po' questa paura che questi tipo di giocatori che all'estero fanno bene a livello di Premier League che a un livello più alto non riescono a fare bene però secondo me da parte dei tifosi ci vuole un po' di pazienza e sono veramente curioso di vedere nel futuro come giocherà Holland al Manchester City si adatta oppure sarà per Gogiola ad adattare un po' la sua visione di gioco però onestamente si sapeva da parecchio tempo di questa cosa di Holland perciò io onestamente penso che un grande allenatore deve anche trovare delle soluzioni per inserirlo per valorizzarlo perché parliamo comunque del giocatore insieme con Mbappé che ha il valore di calciomercato più alto al mondo e tu devi anche da allenatore trovare delle soluzioni proprio per valorizzarlo questo è anche il tuo compito questo significa anche essere un grande allenatore secondo me invece di distruggere Holland dopo una partita perché non ci sono più critiche verso Jack Grealish questo onestamente io non lo capisco è arrivato per 117 milioni di euro ultima stagione disastrosa l'unica cosa che mi non so è rimasta nella mia mente è stato il suo festeggiamento quando City ha vinto la Premier League è stato ubriaco ha bevuto tantissimo lì mi ricordo Jack Grealish bello attivo per il resto veramente malissimo anche in Italia nazionale ha spesso fatto panchina adesso Mbappé ha ventuto Gabriel Jesus e Sterling hanno incassato più di 100 milioni di euro e perciò secondo me adesso deve convincere adesso non ci sono più scuse non c'è più Sterling non c'è più Gabriel Jesus adesso Jack Grealish deve dimostrare qualcosa e secondo me la pressione dovrebbe essere verso questo giocatore che non ha scuse non può dire il calcio di Godiola non è funzionale il mio stile sono appena arrivato no è già la tua seconda stagione non ci sono scuse verso Jack Grealish secondo me le critiche verso Holland dall'altra parte sono eccesive sono esagerate e niente amici questa è un po' la mia opinione fatemi sapere anche un po' la vostra sotto i commenti inoltre ripeto sono contentissimo per Klopp che continua a vincere tutto adesso ha veramente vinto tutte le coppe che si possono vincere a Liverpool e soprattutto le ha portate a Liverpool dopo tantissimo tempo ricordiamoci che lui è stato allenatore dell'anno al Liverpool campione del mondo per Klopp primo nella storia del Liverpool Champions League i tifosi aspettavano dal 2005 l'ha vinta Premier League aspettavano dalla stagione 89-90 Klopp l'ha vinta UEFA Supercoppa aspettavano dal 2005 l'ha vinta FA Cup aspettavano a 17 anni l'ha vinta Coppa di Lega l'ha vinta adesso ha vinto anche la Supercoppa inglese e perciò adesso Klopp è riuscito veramente a vincere tutti i trofei che esistono in terra e secondo me è veramente una leggenda perché ha iniziato un ciclo non è arrivato nel mezzo di un ciclo quando il ciclo era già iniziato e poi che ne so ha dato un po' il suo ha gestito no lui l'ha iniziato lui ha preso un Liverpool veramente che stava messo malissimo e lo ha riportato veramente veramente in alto certamente spendendo anche tantissimi soldi ma a Liverpool si spendevano sempre tanti soldi e perciò in generale in Premier tutti spendono tanti soldi e perciò quel lavoro è che è riuscito a fare non acquistare solo Superstar no prendere giocatori anche molto funzionali alla sua visione di gioco e adesso ha avuto tutti questi successi perciò grandissimo Jürgen Klopp per Holland secondo me ci vuole un po' di pazienza e vedremo anche Pep Codiola se riuscirà un po' ad adattare la sua visione di gioco per questo grande attaccante amici un abbraccio iscrivetevi al canale YouTube è gratis vi costa veramente nulla con un click mi potete rendere molto felice c'è tanto lavoro tanta ricerca dietro a questi contenuti voi fate click è gratis vi costa nulla non vi porta via neanche due secondi e perciò grazie di cuore a tutti coloro che lo fanno vi voglio tanto bene amici sempre viva il calcio grazie a tutti